bene questa è la seconda puntata diciamo così della viabilità creativa del comune di piacenza molto creativa or dunque questa è l'ultima rotonda sulla strada provinciale di valnure che mette in città prima prima di mettersi in città ora fate bene attenzione a questo cartello dice che a sinistra si va a piacenza e in tangenziale ora fate bene attenzione a questo cartello dice che a destra si va a piacenza e in tangenziale e a piacenza e basta dove si va non si sa qui in compenso c'è un'indicazione turistica per la valnure e bettola e qui c'è un'indicazione di due alberghi però c'è uno svincolo ora rifacciamoci il giro va un pochettino accelerato altrimenti non finiamo più eccoci qua e infiliamo proprio lo svincolo dove non c'era scritto niente signore e signori siamo in città ecco qua qui ci fermiamo perché bisogna andare a precedenza poi vigile fuoco meglio dargliela e qui siamo in città complimentoni vivissimi per l'ennesima volta all'ufficio traffico oh un'informazione dimenticavo scusate un'informazione per milano ma dove si va ciao 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 ciao